Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video nel canale Segugio Offroad oggi voglio togliermi una curiosità per vedere se il motore Fire 8 valvole 1200 a benzina montato su questa Fiat Panda 169 è o no in buona salute per fare questo farò un test di compressione utilizzando un kit che vi faccio vedere è questo qui e che mi sono voluto regalare per poter un attimino vedere quali sono i valori di compressione attuali di questo motore che ha circa 250 mila chilometri ed è praticamente vecchio di 15 anni sempre tagliandato più o meno bene da me ma spero anche dal precedente proprietario quindi in questo video andrò a fare il test di compressione nel motore Fire 8 valvole 1200 quindi se siete interessati a vedere come fare un test di compressione sul motore benzina rimanete su questo video nel frattempo iscrivetevi al canale mettete un mi piace al video e lasciatemi scritto qui sotto nei commenti se avete mai fatto questo test anche voi se avete intenzione di farlo e se l'avete già fatto scrivetemi quali sono i valori che avete trovato per il motore Fire 8 valvole 1200 visto che su internet si trova veramente poco noi ci vediamo subito dopo la sigla ed eccoci tornati quindi quello che andremo a fare è essenzialmente aprire il vano motore ovviamente andiamo a togliere il fusibile relativo alla pompa della benzina per evitare che venga diciamo spruzzata e iniettata della benzina all'interno dei cilindri poi andremo a togliere tutte le candele nel caso ovviamente della Panda sono quattro cilindri quattro candele e tolte le candele andremo a mettere questo adattatore uno di questi quattro che sia ovviamente dello stesso passo e dello stesso diametro delle candele ci attaccheremo questo tubo di raccordo e poi andremo a mettere questo manometro successivamente si andrà in abitacolo e si girerà la chiave tenendo premuto il pedale dell'acceleratore completamente e praticamente si avvierà o si tenderà di avviare il motore che ovviamente non partirà non avendo né il fusibile della pompa della benzina né le candele questo manometro salirà e arriverà ad un valore di picco quel valore di picco lo registreremo, ce lo appunteremo e successivamente passeremo al secondo, al terzo, al quarto cilindro ovviamente bisognerebbe avere il motore un po' caldo diciamo a temperatura di esercizio ovviamente senza scottarsi quindi ora andiamo a vedere quali sono gli strumenti che servono quindi oltre al kit serviranno pochi altri strumenti ce li andiamo a vedere velocemente al banchetto facciamo dunque una velocissima panoramica di quello che serve oltre al kit abbiamo bisogno fondamentale di una bussola da 16 per togliere e svitare le candele ovviamente essendo in posizione profonda ci servirà una prolunga da attaccare qui e ovviamente un click da mezzo pollice abbiamo anche bisogno di pinza a becco per togliere il fusibile pistola per soffiare, per pulire intorno alle candele prima di svitarle per evitare che la sporcizia finisca dentro poi serve bussola da 10 come preferite per svitare l'airbox e questo è quanto quindi ora vado ad aprire il vano motore e andiamo a togliere le candele prima però faccio riscaldare un po' il motore questo è consigliato anche nella guida di questo kit di compressione in cui c'è scritto che la temperatura dovrebbe essere a temperatura di esercizio quindi porto a temperatura il motore portato a temperatura l'auto, infatti la lancetta è a metà quindi ora spengo inizio a liberare un po' di cose quindi il filtro dell'aria la scatola per chi non sapesse questo accrocchio che ho messo qui non è altro che il decanter dei vapori dell'olio che escono dal coperchio punterie queste sono quindi i cavi candela sono quattro perché i cilindri sono quattro e che andrò a rimuovere per poter accedere a togliere le candele tolgo prima che me ne dimentico chiacchierando il fusibile della pompa della benzina che sta qui sulla destra questa è la scatola porta fusibili e per accederci meglio stacco la batteria per avere un po' più di spazio e faccio saltare questa clip qui praticamente basta sollevare questa clip e vediamo subito dalla scatola che fuel pump è l'f22 quindi praticamente questo qui per rimuoverlo pinza a becco ritiriamo è un fusibile mini ho fatto un video sui fusibili che vi linko qui sopra questa maniera quando andremo a girare la chiave ci sarà il tentativo di avviamento del motore e potremo registrare la compressione ovviamente non ci sarà iniezione di benzina all'interno dei cilindri quindi ora torno a togliere prima i cavi candela e poi le candele ovviamente devo riattaccare la batteria che ho staccato per avere miglior accesso a questo coperchio e ora devo rimettere altrimenti il motore non farà neanche il tentativo di avvio i cavi candela sono questi quattro e partono dal gruppo delle due bobine questi cavi si diramano e vanno ai vari cilindri quindi uno due tre e quattro questi cappucci devono essere semplicemente sollevati esistono in commercio delle pinze che possono essere utili perché sono delle pinze che vanno a prendere completamente questo cappuccio e a tirarlo sicuramente è un lavoro fatto meglio rispetto a tirarlo con le mani io avendole sostituite comunque saltuariamente con una certa frequenza comunque so che verranno via facilmente e infine l'ultima andiamoci a vedere le candele dove stanno eccole una due si vedono solo nelle loro parti apicali e l'ultima questa qui che si vede bene per togliere queste quattro candele utilizzerò come già detto prima questa bussola da 16 che ha un sistemino che permette non so se vedete quelle linguette in fondo che permette di trattenere la candela una volta svitata in maniera tale da permettermi di tirarla fuori ci accoppio questo e il classico cric da mezzo pollice prima però vado a dare una soffiata nella sede quindi soffierò praticamente qui intorno ecco soffierò tutto qui intorno per pulire dalla sporcizia che c'è entrata ed evitare che una volta svitata la candela la sporcizia mi caschi dentro la camera nel frattempo ispezionando visivamente ho notato che il corrugato aperto di questo che copriva questi due fili è andato perso quindi devo ripristinarlo in più stavo notando che anche il corrugato che porta i fili al sensore di pressione dell'olio e al sensore di giri è pressoché sbriciolato addirittura qui i fili sono a vista quindi in un prossimo video vedremo come sostituire questi corrugati aperti che ormai sono fritti sono sbriciolati e per l'occasione andremo a dare anche una pulita al sensore di pressione dell'olio sensore di giri e sensore di giri dell'albero a cam quindi uno due tre ve li faccio vedere al volo e poi torniamo al lavoro del test di compressione eccoli qui questo è il sensore di giri motore e questo dietro è il sensore della pressione dell'olio mettiamo la nostra pistola ad aria e contemporaneamente do una tappata al corpo farfallato per evitare che entri sporcizia e do una pulita alle sedi delle candele non so se si è visto ma un po' di porcheria è volata e quindi sarebbe finita all'interno del cilindro inavvertitamente inizio a togliere la prima candela una volta che mi sono assicurato che è ben arpionata provvedo a svitarla ecco che è uscita la prima candela farò lo stesso per tutte e quattro non ve lo farò vedere la candela ha un bel colore nocciola non è bagnata non è bruciata quindi le rimetterò su ovviamente adesso toglierò tutte le altre tre e le metto in ordine perché voglio rimontare le stesse candele come stavano messe nello stesso ordine di prima ed ecco le quattro candele messe in ordine ora ne prendo una e vado a vedere qual è l'adattatore che ci entra perfettamente tra quelli nella valigetta questo qui in pratica ora dovrò anziché mettere la candela mettere questo adattatore ma prima ci dovrò avvitare il tubo solo alla fine innesterò il manometro poco parole sarà una operazione ripetuta per tutti e quattro cilindri inserisco e avvito metto il manometro faccio girare il motore per 5 secondi circa il manometro arriverà al suo picco e registrerò questo valore per poi passare successivamente all'altro cilindro quindi vi faccio strada e avvito ovviamente si avvita a mano senza alcuna chiave il manometro ha questo pulsantino per svuotare la pressione una volta che si sarà avuta la lettura quindi sollevo inserisco e mi assicuro che faccia tenuta il pulsantino per svuotare e questo qua quindi ora mi assicuro che è tutto a posto fusibile benzina staccato batteria attaccata candele rimosse adesso vado in abitacolo faccio girare il quadro tento l'avvio per 4-5 secondi e qui si avrà una lettura ovviamente dovrò tenere premuto il pedale dell'acceleratore completamente quindi ora vi piazzo qui davanti ma è tale che potete vedere quindi ora vado a fare la prima lettura del primo cilindro prima lettura abbiamo praticamente 190 190 psi psi quindi me lo segno su un cartoncino 190 psi ora svito dal cilindro 1 e passo al cilindro 2 e rifaccio la stessa identica operazione svuoto l'aria svito dal primo e avvito sul secondo cilindro procedo al cilindro procedo alla seconda lettura terzo cilindro terzo cilindro terza lettura 190 lo stesso quindi scarico quarto cilindro lettura del quarto cilindro 190 quindi tutti e quattro cilindri sono a 190 psi che corrispondono a 13 bar 13 bar quindi possiamo dire che il motore è in buone condizioni di compressione mi avevano suggerito dei valori di 12 io addirittura vedevo 13 quindi più che soddisfatto sulla guida che è allegata a questo kit completamente in inglese ma è praticamente molto comprensibile e grossomodo dice quello che ho già fatto vedere dice che praticamente la discrepanza tra i vari ciclindri non deve essere più del 10% diciamo così di differenza in compressione tra cilindro e cilindro in questo caso sono tutti uguali e la situazione ideale se praticamente c'è una grande discrepanza si può provare anche a mettere un cucchiaino di olio nel motore e riprovare se la lettura cresce dopo aver messo questo cucchiaino di olio il problema potrebbe essere praticamente le fasce che sono usurate quindi ora provvedo a staccare l'adattatore il tubo il manometro e a rimontare tutte le candele quindi velocizzerò e ci vedremo fra pochissimo una volta riavvitate le candele strette con la dinamometrica rimettiamo i cappucci quando rimettiamo i cappucci dobbiamo attendere che faccia il classico clic non so se si è sentito provo a farvelo risentire di qua sentito ok rimetto anche l'asticella che avevo tolto per comodità una volta che abbiamo rimontato l'airbox non ci resta che andare a rimettere il fusibile della pompa della benzina sull'F22 ovviamente non sbagliamoci se no la macchina non riparte ok non mi resta che andare a fare una prova eccoci cari iscritti al termine di questo video spero vi sia stato utile vi sia piaciuto vi invito quindi a mettere un mi piace al video ad iscrivervi al canale e a lasciare quel commento che vi ho detto già prima di farvi sapere se avete fatto mai il test e se l'avete fatto questo test di compressione che valori vi sono venuti vi ricordo che questo kit è economico e vi lascio i link per acquistarlo in descrizione quindi dal canale Segugio Offroad è tutto un saluto e alla prossima iscriviti al canale